Buongiorno a tutti, sono Alessandro Albani e sono qui per lanciare un appello per un accoltafondi della Fondazione Cristiano Tosi per l'acquisto di dispositivi di protezione di duali, attrezzature e strumentazioni che oggi sono estremamente necessarie per quella che è la mission di salvare vite umane da destinare all'ospedale di Bustarsitz. Sono certo della vostra generosità e vi ringrazio per l'attenzione. Ciao!